Un gran piacere averla ospite, conosciuta in tutto il mondo per il suo libro No Logo e poi scritti molti altri, uno dei quali oggi affronteremo, grazie a uno dei quali con Shock Politics, l'incubo Trump e il futuro della democrazia di Feltrinelli, cercheremo di conoscere meglio anche Donald Trump, ma l'America nel suo complesso. Allora, nomica, cos'è la dottrina dello shock? La dottrina dello shock è una strategia che molti politici purtroppo utilizzano per sfruttare dei momenti di trauma in cui siamo confusi, in cui il mondo cambia molto rapidamente, per portare avanti delle loro politiche che vadano a vantaggio delle aziende a scapito della gente. Ci faccia degli esempi. Pensiamo per esempio alla crisi finanziaria del 2008, una crisi creata dalle grandi banche, ma che poi è stata pagata dalla gente comune, dalla gente comune in Europa, negli USA, nel mondo, sotto forma di taglia ai salari, pensioni. Questo è un esempio di ciò che io intendo dire per la politica dello shock. Lo shock è stata la grande crisi sfruttata per portare avanti una gente, non per risolvere la crisi, ma bensì un progetto che ha aumentato le ineguaglianze e avvantaggio dell'elite. In questo quadro il suo libro si sofferma sulla figura di Donald Trump. Perché? Cosa c'entra? E ci spieghi come lei vede il Presidente degli Stati Uniti? Donald Trump è una macchina dello shock. Ogni giorno è un shock e lo vediamo tutti i giorni. Si è capito anche in Italia. Perché è una macchina dello shock? Questo è un nuovo metodo, perché noi vediamo la follia, i tweet, che cosa dirà in futuro. E poi sullo sfondo, piano piano, noiosamente, senza trarre all'attenzione, abbiamo le grandi banche che vanno a deregolamentare di nuovo l'economia globale, che ci predisponono a nuova crisi. Abbiamo le società dei combustibili fossili, che continuano a fare quello che vogliono, che vanno a alimentare il cambiamento climatico, che noi tutti dovremmo assentare anche in Italia, con grandi incendi che si sono verificati di recente. Quindi quello che succede negli Stati Uniti si rimpocca a un effetto su tutto il mondo. Lo shock è per tutti, purtroppo. Nella sua teoria entra in ballo pure il rischio che salti la democrazia. Perché? Perché l'amministrazione Trump, io la vedo come un prendersi in possesso del governo da parte delle aziende. Qualsiasi differenza tra aziende e governo è scomparsa completamente. E questo non è una cosa del tutto nuova in Italia. Voi pure avete avuto un imprenditore che ha gestito per lungo tempo un paese. Non è una novità, diciamo. Dovevate studiarci meglio. Forse più armi nucleari dietro i politici, le super brand, le super maschile. Quando qualcuno vince però, non si può dare la colpa a lui, no? È anche responsabilità di chi perde. La sua analisi, in che misura studia la figura di Hillary Clinton, ad esempio? Sì, infatti, quello che io sostengo è che Trump non ha vinto le elezioni, ma Clinton ha perso le elezioni. E questo è quello che successe con i partiti centristi e neoliberali, in cui abbiamo l'ascesa di un demagogo sulla destra che si avvale anche i sentimenti di xenofobia contro i più vulnerabili. Ma la figura dei centristi non riescono a offrire delle reali soluzioni, perché ci sono delle tematiche agganciate a questa rabbia. L'unico modo per battere Trump è di avere un programma economico che voglia incontrare le esigenze delle persone, l'assistenza sanitaria, l'educazione sostenibile. Quando le scrive la politica odia il vuoto, quindi quando i temi non sono riempiti di speranza, si riempiono di paura. Che significa? Che il centro è crollato da quando c'è stata la crisi finanziaria. Non abbiamo dei ideologi che ci parlano dei vantaggi delle politiche dell'austerity. La impongono sulle persone e volgono le spalle i risultati. Quindi c'è un vuoto. C'è un vuoto del motivo per cui siamo tutti qua, un vuoto di idee, un vuoto di ideologia. E quindi la destra è entrata in questo vuoto. E per questo sostengo che dire semplicemente no alla demagogia non basta. Perché anche se noi dovessimo vincere ognuna di queste battaglie, finiremo comunque per ritrovarci esattamente dove siamo ora. Ossia un mondo che ha delle crisi, crisi ecologica, crisi del trattamento dei rifugiati nel mondo, crisi di eguaglianze. E quindi dobbiamo dire no e dobbiamo dire sì nel contempo. Lei conosce, non so quanto conosca la vicenda italiana, ma la vicenda italiana della sinistra, del centro-sinistra, è una vicenda molto sofferta di divisioni continue. E tuttora stiamo vivendo una divisione all'interno del centro-sinistra molto forte. Quale dovrebbe essere il ruolo di questa area politica dal suo punto di vista in questo scenario? Dove io prendo speranza, per esempio, è quello che è successo in Inghilterra recentemente, non con la Brexit, ma con la campagna di Corbyn nelle ultime elezioni, in cui il partito labiristo doveva essere spazzato via, ma non l'è stato spazzato via, perché ha messo avanti un manifesto che era visionario, che era deciso, che chiamava forte azione sul cambiamento climatico, istruzione gratuita, la nazionalizzazione delle ferrovie, a cercare di vedere le cause del terrorismo, anche i fallimenti in questo settore, il discorso con l'Arabia Saudita, a cercare di capire perché siamo arrivati dove siamo arrivati e offriva delle soluzioni. Quindi, ecco, questa è una cosa che noi spieghiamo per l'Italia. Io mi preoccupo molto del modo in cui questi partiti politici ex-sinistra e centro, dove i partiti si spostano sempre più verso la destra, cercano di contrastare l'estrema destra facendo il loro gioco e stanno diventando altrettanto xenofobici quanto loro. E non credo che non si possa vincere una battaglia dell'idea. La battaglia dell'idea la vinci se tu proponi un'alternativa, se tu leghi la fila di tutte le varie crisi in corso. Siamo fra i pochi leader che io vedo oggi qui. Beh, l'unico che vedo è il Papa che riesce a legare le varie fila. Da Omicrine, SoxPolitics, Linkubutraff, grazie per essere stata con noi. Un vero piacere.